A posto di fare il 180, andiamo proprio a aprire 90, un pochino più facile, quindi facciamo 1, 2, 3, 5, 6, 7 e arriviamo verso questo lato ok? vai, proviamoci da qui 1, 2, 3, i 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ok, verso il vigileo quindi giriamo di meno, è più facile di nuovo, da qui 1, 2, 3, i 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ok? ora da qui la figura si sviluppa verso questo fronte quindi verso il vigileo diciamo 1 a base dietro 1, 2, piacere proprio giro della dama 5, 6, 7 ci siamo? da qui facciamo un cambio di poste 1, 2, 3, i 5, 6, 7 3, di nuovo da qui piacere vediamo un attimo solo le braccia abbiamo fatto il doppio giro 5, 6, 7 ok? sto sinistra sopra destra sotto l'uomo rimarrato è tutta questa figura sempre rivolto verso il DJ quindi non cambia fronte porto la dama dietro lascio la presa con la mano destra passa sotto la mia mano destra sotto la sua traccia sinistra la riprendo porto sopra la testa e la porto di qua ci siamo? da qui lascio la presa con la mano destra passa sotto e vado a fare un picapubbidi riprovo la dama davanti in questo modo ora ci vediamo come arriviamo con i piedi solo le traccia mi interessa per il momento testa sopra sinistra sotto piacere gira la dama ok? passa lascio la presa con la mano destra passa sotto la dama fa la mia sinistra io non la guardo rimango rivolto porto verso il DJ lascio la presa con la mano destra sotto da qui fai il picapubbidi ok? con i passi viene questo guardate un attimo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 ok? quindi l'uomo vedete rimane sempre rivolto verso il DJ vediamo un attimo allora piacere resta sopra sinistra sotto 1, 2, 3 proprio giro 5, 6, 7 capo di posto 1, 2, 3 lascio la presa 5, 6, 7 lascio la presa da qui 1 la tiro con la mano sinistra 2 vado un piede a punto 3 quindi la guida è tiro la dama faccio vedere un attimo verso di voi guardate giro la dama 5, 6, 7 la mando dietro 2, 3 5, 6, 7 da qui lascio 1 la tiro 3 quindi nell'1, 2 la tiro mi dà il comando del picapubbidi e la blocco con la mano sul fianco vai piano piano 1 lascio 2, 3 e dopo la volta 2, 3 5, 6 scambio 1 2, 3 di là 5, 6, 7 e dietro 2, 8 3 da qui rimetto la mano sotto 5 la mano destra sotto 6 la metto 7 poi marca ancora 1 2 3 la porta dall'altro lato lascio la presa con la sinistra 5 6 nella porta davanti 7 sinistra sopra destra sotto dal dal picapubbù dal picapubbù da qui che me la porto davanti vai 1 la dama sta qui ti devi dire la dama la dama sta sinistra 1 2 dal picapubbù 1 2 3 mette la mano davanti 5 6 7 dietro 1 2 3 dietro 5 6 7 troppo sinistra sopra destra sotto ci siete? da qui da qui di nuovo da qui 1 2 3 via 1 2 3 mano sotto 5 6 non la guardo 1 2 non la guardo 5 6 7 sinistra sopra destra sotto si 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 tutto dall'inizio doppio giro piacere mani incrociate vai 1 2 doppio i 5 6 7 i 1 2 di là lascio la presa 5 porto le mani alla mia sinistra picapubbù 1 2 3 destra sotto 5 6 7 tutte le mani su 1 2 lascio la sinistra 5 6 sinistra sopra destra sotto si si la donna si gira alla sua destra nel 5 6 7 vedete quando stiamo qua lascio la presa dalla sinistra la donna viene avanti cammina di sinistra destra si gira alla sua destra come un passeo si gira alla sua destra al settimo terzo ok le altre parti si fa dei ciliter e segue l'uomo si di nuovo lascere 1 2 3 via 1 2 doppio 5 6 7 1 2 di là 5 6 7 picapubbù 1 2 mano sotto 5 6 7 rimando al fronte 1 lascio la sinistra la riprendo 3 7 ci siamo? ok ora da qui l'uomo fa un giro alla sua sinistra fa 1 2 3 5 da mano a base laterale 5 lascio la presa con la mano destra 6 ultimo giro alla sinistra sul 7 7 e chiudo a delle 2 3 5 6 7 faccio la risura dell'uomo quindi di nuovo da qua l'ultimo pezzo l'uomo fa un giro a sinistra classico e facendone un altro interno in un tempo solo nel settimo tempo guardate è semplice l'uomo fa 1 2 3 5 quindi giro a sinistra classico 6 qui carico 7 riprendo 1 2 apro 5 7 7 quindi da qui sinistra sopra e destra sotto vai al cancio giro a sinistra dell'uomo il doppio giro a sinistra 1 2 3 carico 5 6 7 chiudo con una L caricia 1 2 3 5 6 7 quindi guardate un attimo tutta la figura deve avere un pochino e viene così dal inizio 1 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 5 5 6 7 1 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 ok? E poi se voi faccio il piano piano vai! Tutti da l'inizio piano piano 1 2 1 2 2 1 2 3 5 6 7 1 2 3 Apertura 1 2 3 piacere doppio giro camminato 1 2 3 5 6 sombrero 1 2 3 5 6 7 braccio 1 sulla spalla 5 6 sull'altra spalla la porta a sinistra 5 6 L 1 2 3 5 6 doppio giro 1 2 3 5 6 7 1 8 dietro non la guardo 6 di là non la guardo 2 sotto la destra 5 6 sulle mani non la guardo lascio la sinistra la riprendo giro a sinistra 1 2 3 5 calico ancora L finale 2 3 5 6 7 ragazzi applausi amore bravissimi ok 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 poi tanto se ne ha fatto tutta la figura perché siete qui 6 6 6 6 e salsa romantica stasera arrivo questa salsa romantica 1 1 1 1 2 2 1 5 4 5 6 7 6 5 6 6 7 7 7 8 10 11 15 15 15 16 16 15 15 15 17 16 16 16 17 18 17 19 19 19 20 20 20 20 un attimo e ora ok ok chi fa sai sai chi fa sai sai oi dei a te ahi oi oi dei a te chi fa ok chi fa sai sai oi le vede chi fa sai sai e hai chi fa sai sai oi la vostra chi fa 1,2,3,5,6,6,7 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5,6,7 20, 21, 22, 23, 5,6,7 L'ar collected! 5, 6 e la volta del PGO! 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 5! 1, 2, 3, Sviro! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Hattie 12, 3, Avion! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Applausi, signori